Eccoci qua nel secondo video inerente l'utilizzo della spettrometria di massa isotopica nell'ambito archeologico e archeometrico. Vi invito a vedere il primo video nel quale abbiamo trattato diversi argomenti tra cui appunto la spettrometria di massa isotopica, le strumentazioni che vengono utilizzate per le precise misure dei rapporti isotopici e infine abbiamo visto qualche case history dei rapporti isotopici dello stronzio applicati nel settore della paleoarcheologia soprattutto nel caso di Pantano Borghese. Il nostro viaggio quindi prosegue andando ad analizzare in maniera molto più approfondita qualche altro isotopo e valuteremo alcuni degli isotopi del piombo, il perché è importante analizzare gli isotopi del piombo, dei case history per quanto riguarda l'utilizzo dei rapporti isotopici del piombo nel settore artistico quindi nelle opere pittoriche, l'analisi dei rapporti isotopici del piombo nel piombo romano e addirittura in numismatica. Perché è importante misurare i rapporti isotopici del piombo? Perché io lo definirei un metallo prezioso. Prezioso perché ci può dare delle preziose informazioni per valutare la provenienza di antichi manufatti. Vediamo un po' come si presenta il piombo in natura. Dunque il piombo in natura si presenta sotto forma di quattro isotopi che sono il 204, il 206, il 207 e il piombo 208. Dunque questi isotopi hanno una percentuale isotopica, una abbondanza isotopica che definiscono quello che è il piombo primordiale. Però che cosa succede? Tre di questi isotopi sono radiogenici, cioè derivano dal decadimento radioattivo di altri elementi chimici. Quindi il piombo nella nostra era avrà delle diverse configurazioni isotopiche. E questa caratteristica porta a dire che a seconda dell'età geologica e della collocazione geografica, le rocce, così come i terreni contenenti piombo, essi avranno una distribuzione isotopica differente. Detto questo, vi ricordo che due sono le tecniche che possono essere utilizzate per la precisa misura dei rapporti isotopici. E come era nel caso dello stronzio, anche nel caso del piombo abbiamo due tecniche di riferimento che sono la tecnica TIMSS e la tecnica multicollector ICPMS. Bene, fatto questo piccolo escursus sul piombo, sulla misura dei rapporti isotopici del piombo e perché è importante misurare i rapporti isotopici del piombo, entriamo più nello specifico e vediamo qualche piccolo case history. Iniziamo il nostro viaggio. Dunque, il piombo, sappiamo tutti, è stato utilizzato tantissimo nella storia. Basta ricordare all'utilizzo delle anfore, quindi come coibentante nelle anfore, nelle monete, nelle tubature, per le armi, nella BH, negli utensili. Quindi ha avuto un enorme utilizzo nella storia. Come abbiamo visto, il piombo è stato utilizzato tantissimo nella storia e un utilizzo ne è stato fatto addirittura anche nel settore pittorico, con l'utilizzo appunto della BH. Che cos'è la BH? La BH non è altro che carbonato di piombo. La BH ha visto la sua luce per la prima volta nelle opere pittoriche, proprio grazie al Tiziano, che nel 1500 ha iniziato ad utilizzare la BH come bianco di fondo per poter utilizzare del carboncino e fare degli schizzi. Ma come veniva prodotta questa BH all'epoca? Essenzialmente era un procedimento molto semplice. Cioè ogni artista aveva nella sua bottega un piccolo lingottino di piombo sul quale veniva introdotto, veniva buttato dell'aceto. Questo aceto reagiva con il piombo producendo carbonato di piombo che veniva piano piano raschiato, diluito in acqua, dando luogo a quello che veniva chiamato il bianco di piombo. Dunque, le misure dei precisi rapporti isotopici del piombo sono stati applicati in diversi dipinti e in uno di questi dipinti, come ad esempio la dama con leocorno del Raffaello, ha dato grandissimi risultati. Ma andiamo a capire perché è importante. Innanzitutto è necessario fare delle considerazioni. Cioè i valori misurati non sono correlati all'età del dipinto, ma danno indicazioni sulle miniere da dove è stato estratto il minerale di piombo, cioè la galena, per dirla breve, da dove l'artista si è approvvigionato del piombo, essenzialmente per produrre la biacca. Inoltre, considerazioni storico-artistiche aiutano anche a ipotizzare la provenienza del piombo in funzione delle aree geografiche, del periodo storico e dei canali di commercio dell'epoca. Inoltre, misure effettuate su oltre 100 dipinti italiani e francesi di provenienza certa, ci hanno permesso di definire degli intervalli ristretti in funzione del periodo e del luogo di esecuzione dell'opera. In questa slide andiamo a vedere quelli che sono i risultati ottenuti. Come potete vedere, sono stati analizzati un numero molto elevato di campioni provenienti da pittori del periodo raffaelliano e, come possiamo vedere nel grafico, si clasterizzano, cioè sono tutti molto vicini nell'ambito dei rapporti isotopici. Questo ci ha permesso di poter individuare la dama con gli ocorno del raffaello come appartenente appunto al periodo raffaelliano e quindi al raffaello stesso. Un altro interessante argomento di ricerca e nel quale i rapporti otopici del piombo trovano grandissimo utilizzo è la loro misura all'interno di lingotti dell'età romana. Perché è importante sapere la storia di questi lingotti? Perché dalla storia riusciamo a capire anche le rotte commerciali che venivano seguite degli antichi romani per l'approvvigionamento del piombo, quali erano le miniere più utilizzate o meno utilizzate e le rotte preferenziali. Il Mediterraneo è pieno di navi che sono affondate del periodo romano. Questo perché? Perché le navi trasportavano grandi quantità di piombi che provenivano da miniere sparse per il Mediterraneo. La maggior parte di queste navi sono state rinvenute addirittura nelle bocche di Bonifacio, cioè lo stretto che si trova tra la Corsica e la Sardegna, che tutt'oggi è uno scenario molto complesso perché presenta grandi venti e quindi le navi sono spesso destabilizzate. Immaginiamoci a quel tempo dove i grossi carichi di piombo e più l'ingegneria diciamo non eccelsa non aiutava appunto queste navi che spesse volte appunto affondavano. Una delle domande archeologiche molto molto interessanti alle quali poter rispondere è ma da dove provengono questi lingotti? Effettuando delle precise misure dei rapporti otopici nel lingotto ma soprattutto anche sulla galena. Che cos'è la galena? Non è altro che il minerale dal quale viene estratto il piombo e sappiamo che il Mediterraneo, le zone del Mediterraneo, soprattutto la Francia, la Spagna e parte dell'Italia sono piene di queste miniere dalle quali veniva estratto praticamente questo minerale di piombo. Ad oggi facendo una estesa campagna di misure su queste miniere possiamo effettuare una sorta di database di queste miniere del Mediterraneo e capire se i rapporti otopici misurati nelle miniere sono simili o dissimili da quelle misurati nei lingotti di piombo e capirne appunto se c'è un matching. Questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di creare una mappa isotopica. La mappa isotopica non è altro che una mappa rappresentativa dei valori delle miniere di piombo. Quindi andando analizzare i rapporti otopici del piombo nei lingotti e mettendoli all'interno della mappa isotopica riusciamo a capire quel lingotto da quale miniera poteva provenire. Un altro interessantissimo argomento nel quale i rapporti otopici del piombo trovano applicazione è il settore numismatico. Dunque il settore numismatico è molto molto importante perché ci racconta le trasformazioni delle culture. Ci può dare anche informazioni sugli scambi commerciali, sugli studi di mobilità delle popolazioni antiche e quindi introdurre delle nuove tecnologie e degli strumenti analitici che ci possano in qualche modo dare queste informazioni è sicuramente buona norma. Ma perché gli isotopi del piombo nelle monete? Essenzialmente perché ci permettono di caratterizzarle ma anche per capire la provenienza del metallo, risalire quindi alla miniera dal quale è stato estratto il minerale. E in più ci possono dare informazioni su studi della mobilità delle popolazioni antiche, sugli scambi, sulle trasformazioni di determinate culture. In questa slide voglio riportarvi un interessantissimo caso che abbiamo analizzato che aveva come domanda archeologica l'individuazione di relazioni commerciali tra l'antica città di Minturne e Cartagonova mediante lo studio dei rapporti otopici del piombo in antiche monete. In questa slide vediamo i risultati che abbiamo ottenuto. Naturalmente come vi ho annunciato nelle slide precedenti avendo a disposizione un database quindi di miniere riusciamo in qualche modo sempre a capire anche la provenienza del metallo. In questo caso possiamo vedere che avevamo a disposizione un grande database di rapporti isotopici del piombo e siamo riusciti a individuare facendo l'analisi dei precisi rapporti isotopici del piombo nelle monete la miniera di provenienza. In basso a destra come possiamo vedere qui in questa zona vediamo le misure dei rapporti isotopici sulle monete e vediamo che matchano perfettamente con le miniere di Cartago Masaron cioè di Cartagena Masaron che sono delle miniere che si trovano in Spagna. Quindi diciamo che in qualche modo abbiamo correlato la misura dei rapporti isotopici nelle monete con la miniera di provenienza. Sono degli studi assolutamente molto molto interessanti che possono dare degli input di comprensione per capire quali erano le relazioni commerciali tra queste due realtà. Detto questo naturalmente i rapporti isotopici del piombo sono sicuramente uno strumento molto potente nell'ambito archeologico ed archeometrico. Inoltre l'efficienza di questo studi e di queste tecnologie può aumentare se si rispongono come abbiamo visto di opportuni database di confronto. Inoltre l'attendibilità di questi studi può aumentare anche con l'interazione dei risultati con altre tecniche complementari e anche in questo caso è molto ma molto importante la formazione di gruppi di lavoro che possano apportare dei contributi molto importanti. Detto questo io vi ringrazio per qualsiasi informazione abbiate bisogno o curiosità in merito all'utilizzo della spettrometria di massa isotopica nell'ambito archeologico ed archeometrico. Vi invito a contattarmi ai riferimenti che trovate in descrizione a questo video. Ne approfitto inoltre per ricordarvi tutti i canali social dell'Associazione Archeometrica Italiana e vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima!